Oh, e dai, si ricomincia, si ricomincia Benvenuti in Kiwi E benvenuti ragazzi, benvenuti, benvenuti in questo nuovo video di Sbam Ok ragazzi, benvenuti dopo questi giorni che non ci siamo visti, queste poche puntate che non ci siamo visti Perché? Perché stavo a Romics a fare qualche intervista, non so se avete visto i video precedenti Lo metterò da qualche parte qua sopra, il collegamento ai video Ho intervistato qualche cosplayer a Romics, vabbè, andatela a vedere se ve le siete persi E oggi, incominciamo, ritorniamo a fare questi nuovissimi video di Sbam, diciamo, tutte queste trashate che ho trovato nel web Beh, eh ragazzi, un po' di famose durisade, insomma, un video molto così, molto easy, molto leggero, diciamo Torniamo a fare questi video desta maniera, se vi piacciono Ok ragazzi, quindi, ma prima di iniziare vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, attivare la campanella Commentare, commentare, raga, è importantissimo commentare, dovete commentare, raga E mettere like al dito, ovviamente Capito ragazzi? Quindi, vi volevo, anzi, ricordare che la settimana prossima Da venerdì, non questo venerdì che viene quello dopo, sì, credo Ehm, ci sarò a Romics Ah, sì, a Romics, buonanotte Ci sarò a Lucca Comics Ecco, a fare sempre un po' di interviste Però in maniera un po' più diversa rispetto agli altre volte Quindi, se sei un cosplayer, sappi che io ti cercherò, ti troverò e ti intervisterò Ehm, quindi mi raccomando ragazzi E, e fatevi beccare da me a Lucca, eh Che vi faccio un po' di domande Mi raccomando ragazzi Ma prima di... ma io ce l'ho proprio Iniziamo subito, iniziamo subito Con questo nuovissimo video di Sbam Oh, iniziamo subito Bello, bello Proprio Ma che cosa stai... stai caginando Ma che è? No, vabbè raga, mi fischiano le orecchie Mi fischiano Se guarda pure in giro che nessuno sta guardando Ah, iniziamo bene ragazzi Iniziamo benissimo A una certa se... A una certa se guardavi in giro che qualcuno lo stava guardando Ah, mamma mia raga Le orecchie, porca puttana Le orecchie mi stavano proprio a... Sapete quando te vibrano proprio così Ah, vabbè Le parole dell'inglese ovviamente È un optional Eh, vabbè Eh, vabbè ragazzi Maron mio Eh, vabbè Questo è il... Il... Come cazzo? Non so manco come si... Come si chiama sto tizio qua Ah, este che... Di se... Dai ragazzi Andiamo avanti con il prossimo video Andiamo avanti col prossimo video Cos'è che ci ha riservato il web Andiamo a vedere Oh, vabbè Eh, vabbè Eh, ma che cacchio è? Ma che animale è questo? Porca miseria Raga Ah Però Però c'è Però c'è una cosa da dire Raga C'è una cosa da dire Effettivamente Se non si guardava la faccia C'aveva il fisico C'aveva il fisichetto Che Eh, vabbè Però No No Eh Non se po' raga Oh, ma no Tutti questi Sti tipi qua Tutti i sudamericani sono Sti Sudamericani Di quella parte là sono Sarò che ci avranno una certa Una certa cosa Una certa predisposizione Però Che te devo dire raga Eh Ok A voi vi piace Scrivetelo qua sotto Vi piace Sto tipo Oh Che bello Che bello Allora sono odiati anche dagli animali Allora Sono proprio odiati da tutti Sti ciclisti Oh Che bello Ragazzi C'è qualche ciclista qui Che me sta a guardare Che ci sta a guardare Lo scrivilo nei commenti C'è pure le vacche I odiano i ciclisti Ah Allora vedi che non siamo gli unici Quindi E mi fa piacere Mi fa piacere Mi fa piacere E niente ragazzi Ora L'ultimissimo Video Ma Ricordatevi Di iscrivervi al canale Ragazzi Ricordatevi Eh ragazzi Nama vede L'ultimo video E se sei un ciclista Verrai preso A calci anche Dalle vacche Allora Dai ragazzi L'ultimissimo video E mettete Ricordatevi Di mettere anche like al video E ricordatevi Eh Ne che Vono uscire così Nama vede l'altro Andamo a vede Barbiere Sta tagliare i capelli Sta tagliare Sta arrasa i capelli AAAAAA 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 Vabbè Bella pigna gli ha dato E poi meno male che gli ha dato schiaffo Meno male che quello ci aveva rasso io in mano Cioè se poco poco schiaffo gli ho dava con l'altro braccio Gli tagliava tutta la testa Gli tagliava I liti di Sam era in ospedale Oh ragazza E questo mi ha fatto schiatta raga Questo mi ha fatto proprio schiatta raga Oh marron Vabbè E niente raga Però quello che gli ha gridato S'ha rischiata Che se poco poco usava l'altro braccio Gli tagliava tutta la testa Gli tagliava E niente ragazzi Questi 4 video di Sbam Sono terminati qua E raga che vi devo dire Se vi è piaciuto il video Mettete like Commentate Iscrivetevi al canale Gusto a di sempre E vi ricordo Che la settimana prossima Ci vedremo al Luca Comics Dove vi prenderò A voi cosplayer E vi farò qualche intervista Un po' particolare Quindi mi raccomando ragazzi Non scappate Perché quelli che scappano Io so quelli che preferisco Io quando vedo A gente in cosplay Che sta scappando E quelli che proprio preferisco Quelli voglio Quelli che scappano Quindi fate Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale Commentate Mettete like Tutte queste cose che faccio E ci vediamo A Luca Comics Mi raccomando ragazzi Ciao cari Ciao Ciao